Si chiama Proxima proprio perché è prossimo alle persone, alle comunità. Proxima è una vetrina digitale di prossimità. Stava succedendo e sta succedendo che questi ultimi negozi, che rappresentano non solo un'attività commerciale, ma sono degli autentici catalizzatori di comunità, avevano bisogno di essere supportati. La presenza di questo strumento all'interno di un negozio ha favorito le interazioni, persone che si fermano, parlano, chiedono che cosa è possibile trovare oggi. Proxima ricrea comunità all'interno dei luoghi. Era questo che non si può perdere, è un presidio del territorio, un presidio sociale. Proxima dà anima a chi desidera restare.